E allora? Dai, vieni qui. Vieni un attimo sotto le... No, non posso. Un attimo sotto... Sono grassa, occupo troppo spazio. No, davvero, devo scappare. Adesso? Adesso. Al Furstenhoff, si è rotta una doccia. Devo andare a ripararla. Sei il signor Zombichler? Sì, fa una bella sfuriata. Lo so. Peccato. Peccato. Ma arrivo tra circa un'ora, te lo prometto. Tra un'ora sarò già ad armeggiare in cucina. È davvero così necessario? Non potresti entrare un po' più tardi? No, non posso fare questo alla signora Zombichler. Altrimenti la lascio sola, Robert non c'è. E allora? Le sue specialità bavaresi stanno andando alla grande. Sì, ma ha soltanto due mani, povera donna. Se potessi fare come voglia... Sì. Beh. La prossima volta spengo il cellulare e dico che ho la batteria scarica. Sento già la tua mancanza. Ieri era talmente di cattivo umore. Temevo che finisse tutto. E adesso stiamo di nuovo bene. È molto più semplice da quando Gregor non è costretto a fingere. Dopo tutte le difficoltà passate, solo in questo momento riesco ad avere la sensazione che siamo una vera coppia. Tania, non vai ad aprire? No. E non aprire nemmeno tu, per favore, va bene? Ciao, Laura. Puoi dirmi dove è Tania? Ah, sei qui. Ti ho cercata un paio di volte al cellulare. Sì, lo so, ho visto. Beh, allora non capisco. Perché non mi hai richiamato? Te ne vai, per favore? Ho fatto qualcosa che non va. Ti prego. Prima però devi spiegarmi perché sei sparita dalla circolazione. Voglio sapere se ho fatto qualcosa di male. La porta è là, fuori. Come mai all'improvviso sei arrabbiata con me? Insomma, che ti prende? Mike. Penso sia meglio che tu te ne vada, non insistere. È uscito? Sì. Ma che cosa è successo, Tania? Ah, non importa, non voglio più saperne di lui. Non lo voglio più vedere. Tania, tu hai soltanto visto una siringa, non vuol dire proprio niente. Ah, sì? Non vuol dire niente. A me sembra tutto molto chiaro, invece. Però se ho ben capito, di droga non ne hai trovata. No, di droga non ne ho trovata. Forse l'avrà nascosta da qualche altra parte. Oppure può darsi di no. E allora che cosa se ne fa di una siringa? Spiegami. Oddio, Tania, se fosse un drogato penso che avrebbe le braccia piene di buchi. Già. Sì, probabilmente li hai, solo che io non ci avrò fatto caso. No, no, aspetta. Tu per il momento hai soltanto un vago sospetto. Ma scusami. Scusami, quale altre prove dovrei avere? Abbi pazienza. Uno spacciatore che va in giro per il paese? Una perquisizione della polizia? Non so, un gruppetto di amici tossici? Sì, ma non puoi andare avanti così. Non puoi nasconderti ogni volta che Mike vuole parlarti. Vedi, se lui... Come dire? Se lui fosse uno... Che ogni tanto fumo una canna, allora... Potrei anche accettarlo, va bene, ma un tossico io... No, io non ci posso stare con un tossico, Laura. Ho capito, ma se invece si trattasse di un semplice equivoco, potrei scoprirlo soltanto se parlerai con lui. Laura, veramente, ho già parlato con lui e quando gli ho domandato se per caso si drogava, mi ha risposto di no. Prova a parlargli un'altra volta, allora. Scusa, perché non gli fai vedere la sirina che hai trovato? No, ma per favore. Così gli do l'occasione di inventarsi un'altra storia per potermi tranquillizzare. No, guarda, meglio di no. Comunque dovresti fare un altro tentativo. Laura... Io, per mia sfortuna, ho già vissuto in passato un'esperienza simile, non te lo ricordi? Sì, mi ricordo. Con Rick è stato... è stato brutto. Altro che brutto, è stato... è stato un vero e proprio inferno. In quel periodo ero una stupida, così come lo sono adesso. Non ho imparato un bel niente, non riuscivo a rendermi conto. Ma alla fine ho capito e ho trovato il coraggio di dirgli adesso basta, ti lascio. E allora lui ha fatto un po' di scena, si è inginocchiato davanti a me e ha detto senti, voglio smettere di farmi, davvero te lo giuro. E io, cretina, come sempre, ho continuato a... Non sapevo assolutamente in che modo aiutarti. Mi hai aiutata molto, invece. Mi hai messo in guardia tante volte. E quando finalmente poi ho aperto gli occhi, era troppo tardi. La mia vita era nel caos più totale. Mio Dio, Laura, io... Io non posso commettere di nuovo lo stesso errore, non voglio per nessuna ragione. Che possiamo fare adesso? Oddio, e pensare che ero così contenta. Stavo così bene. È stato proprio bello quando me lo sono ritrovato davanti con quel cappello da cowboy. Ci siamo guardati tutti e due negli occhi e ci siamo capiti al volo. Che meraviglia. A te magari potrà sembrare una scemenza, ma... In quel momento mi sono detta... Tania. Eccolo qui, hai vinto il primo premio. È proprio lui. E adesso invece ho perso tutto. Sì, avanti. Disturbo. Ma figurati. Vieni avanti. Volevo solo ringraziarti. Ah sì? E che cosa ho fatto? Hai fatto una lavata di testa a Gregor? Già. Sono contento di esserti utile. Beh, sai... La faccenda era diventata così complicata tra noi. Insomma... Sì, comunque adesso è di nuovo tutto a posto. Davvero? Troppe cose ci hanno diviso. Il suo rapporto con Helen. Quella storia orribile in Messico. L'arresto. Queste cose. Quindi tutto bene. Almeno fino al processo. Sì. Sì, ma per il momento non pensiamo a quello. Ci godiamo il tempo che ci rimane. È bello vedere che ora si fida di me. Beh, come ti ho già detto, sono contento di esserti stato utile, davvero. Ma comunque... Vorrei che anche tu trovassi qualcuno con cui essere felice. Senti, lo vorrei anch'io, ma per ora voglio starmene un po' tranquillo. Non mi sento ancora pronto. E la dichiarazione è di Helen? Che cosa... Sì, vogliamo cercare di convincerla a ritrattare. A quanto sembra abbiamo buone possibilità. Così il primo sospettato sarà Gregor. Sì. Possiamo soltanto sperare che la faccenda si chierisca da sola e che lui riesca a provare la sua innocenza. Sì. Si sistemerà tutto. Ne sono più che certo. Beh, adesso vado in cucina. Grazie ancora per il tuo aiuto. Devo andare. Sai, da quando Robert è a Marbella, è un delirio là dentro. Grazie ancora per il tuo aiuto. Salve. Salve. Rubo soltanto qualche rametto. Senta, se non le spiace, potrei portarmi via anche un paio di rose. Mi servirebbero per il dessert. Sì, certo. Sì, grazie. Oh, guarda, c'è anche la principessa del cioccolato. Va bene, basta così. È meglio che me ne vada. La sua stampante è di nuovo pronta per l'uso. Suo padre mi ha chiesto di cambiare la cartuccia. Magnifico. Grazie. No, sono io a dover ringraziare lei, signor Salfeld, per il nostro colloquio di ieri. Mi ha aperto gli occhi con quel che mi ha detto a proposito di Laura. Aveva ragione. È più semplice quando si può condividere ogni cosa. Allora, con mia sorella è di nuovo tutto a posto? Sì, certo. Beh, per fortuna ci siamo chiariti. Ottimo. Sarà contento? Sì, Laura è davvero meravigliosa. Forse è una parola un po' fuori moda, ma non so come definirla. Capisco cosa intende. Sinceramente non immaginavo che mi sarei innamorato ancora così dopo Sofia. Già, a quanto pare però ci è riuscito. Come sta Ellen? Finalmente è andata alla polizia e ha ritirato la sua dichiarazione. Quindi vuol dire che lei dovrà aspettare ancora? Sinceramente sono convinto che presto sarò di nuovo un uomo libero. Dopodiché ho un altro obiettivo. Poter essere felice con Laura. E non intendo dire solo per adesso, ma per sempre. Per sempre? Sì, per sempre. Beh, se è così... Se è così non mi resta nient'altro da fare che augurarle ogni bene e buona fortuna. Grazie, la ringrazio molto. Penso che sarà un rapporto, non so, come dire... Signor Bergmeister, mi lasci solo adesso, ho molto lavoro da fare. Ne ne vado subito. Buongiorno. Ciao Alexander, cerchi qualcuno? Sì, cerco il degatto. È con Maria adesso, dovevano parlare del menù di oggi. Posso aiutarti io? No, no. È successo qualcosa? Non è successo niente. Dimmi per piacere. Forza, vieni qui e raccontami. Vuoi sapere di che si tratta? Ok, d'accordo, te lo dico. Avresti potuto informarmi della grande novità. Quale novità, scusa? Non far finta di niente. Io mi sforzo con quel tuo Gregor. Cerco di parlargli... Alexander, qual è il problema? Avresti potuto dirmi che vi sposate.